La politica dovrebbe dare i segnali di coerenza, di dedizione sempre maggiore, di sacrificio personale per poter servire il popolo nel bene comune. Inoltre dobbiamo ricordare, e penso che anche i media potrebbero fare qualcosina di più, nel mettere in rilievo la bontà, l'eroismo, l'onestà della stragrande parte del popolo italiano, cosa che spesso non fa notizia, di solito non fa notizia, però che fa storia. Ecco, bisognerebbe che tutti quanti noi, ognuno secondo le proprie possibilità, mettesse più in rilievo la realtà più vera che è questa, non la corruzione che certamente c'è, ma la stragrande parte della nostra gente è onesta. Ai credenti, ai cristiani, innanzitutto di incontrare più intimamente il Signore Gesù nella preghiera e nella carità fraterna.